allora innanzitutto volevo chiedervi scusa per non aver portato ieri il post almeno sprint race in realtà perché poi c'era anche la qualifica proprio della della sprint ma vi avevo avvisati che probabilmente non avrei fatto in tempo ieri per me è stata una giornata particolarmente intensa comunque vi chiedo scusa perché era da tanto che non mi accadeva una cosa una cosa del genere recupero adesso e dirò qualche parolino ovviamente anche sulla sprint race ma se c'è una cosa che abbiamo capito e lo dico a un paio di giri dal termine sperando di non gufarla è che quando sulla carta a bocce ferme ti aspetti competitività e risultati da parte della ferrari questi non avvengono mai quando non t'aspetti nulla ma proprio nulla i risultati arrivano quindi continuiamo a non aspettarci nulla su qualsiasi tracciato da oggi e per sempre vi saluto e mazza e sorpasso al bono sulkenberg vi saluto immediatamente bentornati e ben ritrovati vi chiedo semplicemente di lasciare mi piace su questo video per continuare a supportare i post gara che poi tra l'altro un'altra rosicata se mi seguite su telegram ragazzi pare fatta apposta mamma mia una marea di mi piace su questo video per continuare a supportare questo genere di contenuti anche per la prossima stagione di formula 1 io già penso alla prossima come sempre non solo in ottica ferrari ma proprio perché ormai regà il campionato mondiale non c'ha più niente da di sono rimaste le briciole iscrivetevi soprattutto e attivate la campanella per restare sempre aggiornati anche su questo canale youtube mi farebbe veramente tanto piacere qui arrivare a 100.000 iscritti regà lo apprezzerei veramente tantissimo io ce provo qualora oggi entro mezzanotte riuscissimo ad arrivare a 62.000 iscritti su questo canale youtube domani io mi prendo l'impegno e vi porto f1 23 il videogioco mi faccio una nuova vi propongo una nuova puntata della della carriera della carriera quella quella pilota ovviamente e carriera pilota no quella non so se mi sono spiegato il campionato ecco e chiedo scusa se sto periodo non sono stato particolarmente attivo sul video game ma regà è stato un macello insomma tantissimi impegni tantissima stanchezza tantissimo sonno arretrato sono contenuti che ragazzi richiedono veramente tanto tanto tempo comunque c'è anche due canali di calcio vi lascio in infobox o compariranno qui durante il video rapidamente sulla sprint race e ci sono state delle sorprese eclatanti in realtà non tanto piastri che si stava ormai riconfermando anzi si sta lasciamo stare la gara si sta riconfermando già da qualche gran premio a questa parte potevamo immaginarci un qualcosa di questo tipo se non sbaglio nella qualifica è arrivato a qualcosa come 11 0,011 millesimi di secondo da verstappen che ha fatto la pole position della sprint race che praticamente per chi non lo sapesse è una gara a parte che ormai si corre si gioca a botta unica nel nel sabato no quindi la mattina presto anziché libere 2 libere 3 qualifica e poi la gara a qualche ora di distanza ma la sorpresa più grande non è tanto verstappen che vince quella quella sprint race quanto gas lì che addirittura ragazzi prende punti pesanti ricordiamolo non dimentichiamolo è quindi terza posizione in classifica inaspettato nessuno secondo me poteva aspettarsi un risultato poi alla fine no del del genere alla bandiera a scacchi di questa sprint race con science quarto leclerc quinto quindi comunque qualche segnale è abbastanza importante qualche punticino che serve relativamente a poco che però da un minimo di morale con norris sesto emilton settimo rasso all'ottavo con nono ricciardo decimo fernando alonso qualcuno mi ha scritto sento le due smadonne fin da qui ovviamente no per il fuori pista di di fernando alonso esce dalla dalla sprint race dalla gara stessa cosa per per perez non mi dilungo più di tanto sulla sprint race che comunque ribadisco ci ha regalato qualche qualche emozione ma dobbiamo ovviamente immergerci in quella che è stata la gara di quest'oggi ma emilton addirittura pit stop ragazzi ha praticamente gara terminata giro 40 ha finito probabilmente le le gomme tra l'altro vi racconto sta cosa che è particolare vabbè c'aveva al margine ovviamente per quello l'ha fatto se non sbaglio e vi racconto questo particolare mi sono addormentato durante la gara per due barra tre giri c'avevo norris praticamente che stava nelle ultime posizioni riapro gli occhi e lo ritrovo improvvisamente già già stava settimo in classifica non ricordo male ha ricostruito una gara importante quindi bassi e alti praticamente dispiace tantissimo per per piastri per chi mi segue su telegram sa ancora di più per science la dice responsabilità dei piastri responsabilità di emilton sandwich ragazzi science non avrebbe potuto fare proprio nulla no dice te fermi i miei box che te cambiano tutto il fondo la che gli vuoi fare niente in questo caso io credo si possa parlare semplicemente di sfortuna e di nient'altro perché te fanno il sandwich ti rovinano la vettura non che l'abbiano fatta apposta ovviamente stavano gareggiando no e quindi ecco sfortuna per science che avrebbe secondo me potuto fare una gara ad alta competitività mi aspettavo sul lato leclerc onestamente una gara di questo tipo ve lo dico proprio onestamente pensa se no se mi seguite su telegram sapete non lo avrei messo sul sul podio potevo assolutamente immaginare un qualcosa un qualcosa di questo tipo si ha perso posizioni perché ricordiamolo partiva pur sempre primo però non si è comportato male ha fatto il massimo che poteva davanti solamente le red bull quindi lui davanti a tutte le altre vetture e per questo io alle clerc al netto di tutto quanto si si è fatto super ok ma voglio dare otto perché comunque un podio che non so manco andando a memoria se abbiamo mai preso podio forse il terzo podio di stagione della ferrari non vorrei dire una fesseria una stupidaggine ma questo fa fa capire insomma i risultati veramente al minimo storico per per la rossa e anche e soprattutto comunque per le clerc che insomma potevamo immaginarci molti punti in più in questa stagione molti più po di magari anche qualche vittoria 1 o 2 è ok verstappen ormai regà 10 e lote non non mi soffermo neanche più persa ha fatto una bellissima gara onestamente parlando non ha potuto nulla su verstappen che ha dimostrato ulteriormente manifesta superiorità se verstappen è da 10 e lote la red bull è da 10 e persa sto giro secondo me dai comunque ha mantenuto la posizione non è da lui guardando quello che ha fatto nelle ultime gare io mi sento di dargli 9 per la seconda posizione in classifica bella la gara anche di luise emilton quarta posizione subito dietro al podio non era non era semplicissimo una vettura che a volte sembra poter fare quel qualcosa in più a volte ricade nell'anonimato a volte però insomma momenti se ne va ragazzi ho visto con la coda dell'occhio ma ha vinto lui ovviamente quindi emilton quarto in classifica non è un cattivo risultato anche lo stesso fernando alonso è che si riscatta se così vogliamo dire da da non aver preso punti dalla sprint race alla fine una quinta posizione no sono punti sicuramente abbastanza pesanti è abbastanza importante per la sua aston martin se poi guardiamo come sempre stroll nettamente indietro e a emilton io voglio dare ma do sette e mezzo a emilton a fernando alonso do sette e mezzo a russell do un sette a norris buona la rimonta in totale ma facciamo che gli do un bel sette per come se sta pure sette e mezzo per come se stava a mettere la gara un buon sette anche a ocon non si è comportato male onestamente parlando quindi insomma lì davanti sicuramente qualche qualche segnale positivo no un po da tutti i piloti che abbiamo visto che abbiamo visto con ripeto sainz a mio modo di vedere sfortunato giro veloce addirittura di emilton segnato in questo in questo momento peccato per piastri non lo dico perché tifo mclaren ma ovviamente per ovvi motivi se mi seguite su telegram ribadisco lo sapete e niente questo è quanto ragazzi oggi penso che meglio di così non potevamo fare ribadisco parlo della della ferrari do un sette e mezzo anche alla ferrari per la gara che è stata fatta sainz che voto io voi da coraggio non c'ha avuto nessuna colpa stava facendo secondo me quello che doveva fare poi arriva sta sta situazione la macchina perdeva tantissimo e si è fatto superare praticamente da da chiunque vi ringrazio per la visione di questo contenuto e come sempre vi do appuntamento alla prossima con un nuovo video grazie grazie grazie